Musica Avanti c'è posto signori, avanti, avanti senza spingere, avanti biglietto Un biglietto per favore Subito signora Quanto è? 40 lire Non ce ne ha i contanti Non porto mai i contanti con me Ma roba, mamma Vediamo un biglietto se trovi i soldi in tasca Ehi, ma quelle mille lire le ha tolte di tasca a me Oh scusi sa, ma qui si sta così ammassati Ecco i soldi, ecco i biglietti, i conti li farete poi quando scendete, va bene? Portarsi atti per favore Vai, di chi è questa mano? Tieni via la mano? Di chi è? Aia Dico che maniera Tieni via la mano, no? Mi ci metto almeno un biglietto Grazie Mi dia i soldi Un momento Un attimo, scusa Ecco, tenga Aia Aia E troller Gino Scendi a mettere sul troller Va bene Ci mancava anche il troller adesso Permesso per favore Permesso che mi devo attaccare al troller Permesso per piacere Devo scendere Permesso Permesso? Scusi la spinta, madame Permesso? Scusi Ma se non scendo io non si parte Capirai? Sono anche a miope La, fatto Permesso? Permission? Bitte S'il vous plait Fais-moi passer Sure Che se tira là Signora mi faccia passare Per piacere Permesso Vai Giovanni Che vai bene Avanti c'è posto Biglietto Signori Biglietto Portarsi avanti Verso la cabina del monopratone Portarsi avanti per piacere Avanti verso il pilota Avanti Gio Giovanni Avanti c'è posto Biglietto Chi ha fatto il biglietto Ma non si agisce Si calmi Si calmi Non vede come ha caldato Muoversi fa bene Si espellano le tossine E poi Visto la maglia Movimento 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 Movil Movil La maglieria della salute Perché? Perché mantiene costante La temperatura del corpo In ogni stagione Movil vi difende dai reumatismi Perché? Perché svolge un benefico Massaggio triboelettrico La maglieria Movil È praticissima Perché? Perché si lava con acqua fredda Asciuga rapidamente E non si deve stirare Movil A prezzi controllati Nei negozi Che spongono queste insegna È un prodotto Montecatini